E sono pronto a regalarvi l'appuntamento con l'oroscopo, che parte subito dalla riete. Le stelle vi stanno aprendo nuove strade. Avrete un ruolo sempre più di rilievo sia nel lavoro che in campo sociale. La passione e l'amore vi faranno cercare occasioni di intesa e di intimità. Toro, si annunciano delle belle gratificazioni nella vita affettiva. Preparatevi ad accoglierle. Se non avete un'occupazione, le stelle aumenteranno le prospettive per trovarla entro breve. Gemelli, oggi sarà complicato trattenere l'insofferenza verso chi continua a farvi proposte estremamente lontane dai vostri principi. Con stelle a favore, la capacità seduttiva verrà amplificata. State andando verso un futuro luminoso. Cancro, un incontro inatteso potrebbe rivitalizzare la vostra vita sentimentale. Una decisione presa all'improvviso si rivelerà davvero azzeccata, al di là di ogni più rosa previsione. Leone, single, qualcuno cercherà di influenzare a fin di bene le vostre scelte amorose. Ascoltate quello che ha da dirvi, poi decidete autonomamente. Per chi è in coppia, se il partner vi propone iniziative che non vi entusiasmano, non glielo manderete di certo a dire. Vergine, oggi potreste essere sommersi da una marea di dubbi. Fatevi aiutare da chi vi è caro a dirimere una questione complicata. Una mail o una telefonata vi porteranno una bella notizia che vi ridarà grinta e buon umore. Bilancia, alcune vicende recenti vi hanno fatto interrogare sulla strada che avete pensato di seguire, che in ogni caso fino ad oggi si è rivelata giusta. Se vi sentite stanchi annoiati, cercate la compagnia di un amico. Scorpione, sarete messi in condizione di dimostrare le vostre capacità e andrete incontro, senza alcun ostacolo, al riconoscimento dei vostri meriti. Giornata favorevole anche per le trattative di affari e finanziarie. Sagittario, oggi potreste concedere troppo spazio alla carriera a scapito della vita personale. Stabilite un equilibrio tra questi due aspetti. Sappiate apprezzare di più la persona che avete accanto? Capricorno, è il momento ideale per reclamare una promozione oppure sostenere un colloquio di lavoro per un ruolo che richiede serietà e preparazione. Vivo fermento di idee e di contatti. Acquario, una conquista amorosa vi renderà felici. Coglierete l'occasione anche per curare il look, fare degli acquisti o per rinnovarvi. Vi ritaglierete ampi spazi di calma, riposo e relax. Pesci, le stelle di oggi vi permetteranno di andare d'accordo con tutti, sul lavoro o in famiglia. Guarderete il lato migliore delle cose e risolverete ciò che non va. Le stelle raccomandano però prudenza nelle spese. Piagge e vacanze potrebbero costare più del previsto.